Per Francesco Giustiniani, partner di Ailex, secondo lei ha avvocato l'eccellenza italiana, quali strategie devono adottare per promuovere all'estero, in Italia il loro marchio e come uno studio può aiutarle per questo fine? Credo che si debba partire dalla consapevolezza che l'eccellenza dei prodotti di alta gamma italiano è un fenomeno culturale prima di qualsiasi altra cosa e quindi sono da salutare con particolare piacere perché molto funzionali iniziative come quelle di un'associazione come Alta Gamma e che effettivamente ha visto negli ultimi cinque anni oltre 70 milioni investiti in iniziative di macinatismo a tutela del patrimonio culturale italiano. Gli studi legali sono dei produttori anche loro di servizi, possono rendersi molto sinergici, sono esportatori di made in Italy anche loro se sono ben radicati con i piedi in Italia e con la testa ovviamente ben attenta a quello che succede a operare anche in Europa e nel mondo. Quello che noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare è con anche e soprattutto questo tipo di clientela. Grazie, grazie mille. Grazie a tutti.